Salute a tutti! Il mio nome è Mattia Prometeo e sono il profeta fatato del giardino che non c'è destinato a salvare il mondo! Benvenuti o bentornati, ma bentrovati, all'appuntamento quotidiano della rubrica del giorno del calendario. Calendario filosofico, ovviamente! Oggi è il 3 dicembre 2021 e la frase del giorno è questa. Lasciate che ve la legga. Accontentarsi di chiunque, pur di non restare soli, se dovessi spiegare a parole l'infelicità, lo farei così. Di Charles Bukowski. Bukowski, voglio dire, almeno i film tratti dai libri, vedete, vedi. No, vabbè, ma non è importante, non è importante parlare dall'autore. Magari nascerà una rubrica che parla di autori? Non penso, sono un po' troppo pigro per queste cose. Poi i vlog diventano un lavoro e non è più piacevole. Perché io, come tutti millennial, non voglio lavorare, voglio solo divertirmi. E poi la gente mi dice, eh, devi trovare un lavoro che è anche un divertimento, ma così rovini il divertimento, accidenti! Devi trovare un divertimento che spinge gli altri a volerti pagare per quanto ti diverti. A pensare a male si pensa sempre alla prostituzione. Comunque, la frase di oggi, commentiamo la frase di oggi, dimenticando il messaggio. Come sempre dico, è importante commentare il messaggio, ma non il messaggero, perché una cosa è vera indipendentemente da chi la dice. Se poi la dice Bukowski che con la prostituzione ci andava a nozze, lasciamo stare. Comunque, accontentarsi di chiunque pur di non restare soli, chiaramente, è una cosa incredibilmente vera al giorno d'oggi, giorno in cui siamo sette miliardi e mezzo, andiamo verso gli otto, e non c'è mai stata così tanta solitudine nelle società delle megalopoli. Ed è una cosa che mi lascia abbassito, è una cosa incredibile. Ora, io vabbè, sono, chi mi segue lo sa, io sono un pochettino meridionale, non tantissimo, vivo proprio sulla linea della meridionalità, sono di Reggio Calabria, quindi ecco diciamo che più meridionale di così, ma probabilmente sei siciliano, perché c'è ancora più sud, però ecco, mi è capitato ovviamente di vivere al nord e di vivere al centro. E lì non si dice buongiorno al dirimpettaio, cioè tu apri il portone di casa, di fronte hai un altro portone o più portoni, io di fronte al portone di casa ho il giardino, chiaramente, quindi, cioè, per dirvi, vabbè, il fatto è questo, cioè, non si dice buongiorno a chi abita di fronte o accanto a te, cioè, una cosa pazzesca, no, perché dici no, ma siamo estranei, cioè, abito accanto a te, che vuol dire essere estrani? Chiaramente uno per smettere di essere estrani gli dici buongiorno, ciao, abito qua, accanto, se hai un problema chiamami, se ti serve il sale, queste cose, la lampadina, ok, oppure oggigiorno cos'è che succede di catastrofico, che magari sono chiusi i negozi, non sai cosa fare, cioè, ti si rompe il mouse, metti caso, ti si rompe il mouse o finisci le batterie, ti si esauriscono le batterie, esauriscono la carica, le batterie del mouse, no? Magari in un giorno in cui non hai un negozio vicino, in un orario improbabile, più che altro, perché se sei in una condizione del genere, in una megalopoli, chiaramente un negozio aperto e ti vende batterie o mouse, c'è sempre, al massimo è un casino arrivarci, però ci sono delle condizioni in cui è un casino, no, metti che abiti in periferia, ti muovi solo con i mezzi pubblici, sono chiusi, perché incredibilmente a Roma la metro la sera chiude, così, poi dici, ah vabbè, posso prendere gli autobus, sì, vai a prenderli per due pile, vai, ti voglio vedere, e la disperazione di un mouse porta anche a questo, poi per questo tutti quanti abbiamo il mouse di scorta o i mouse di scorta o le scorte di batterie, no? Perché non vogliamo chiederle al vicino, perché poi dovremmo iniziare a dirgli buongiorno, buonasera, costa fatica, ok? Io abito in un campo, se vedo un dirimpettaio a 10 chilometri di stanza, mi sbraccio, buongiorno qua e là, come gli hobbit, ok? Per questo lo dico sempre, noi italiani siamo hobbit, ma noi italiani veri, non quelli di megalopoli, quelli di megalopoli non sono più italiani, non hanno niente della cultura italiana, non hanno nulla, figurati, cioè le poesie di leopardi vanno lette di fronte a una siepe, se la siepe non ce l'hai, che cacchio devi fare? Cioè, comunque, tralasciando questo, ecco, accontentarsi di chiunque per non restare soli, tralasciando la solitudine che regna nelle zone affollate, ok? Che comunque, voglio dire, dovrebbe essere anche un argomento centrale, soprattutto nella filosofia contemporanea, ecco, la solitudine in realtà non esiste, perché sei sempre con te stesso. Il fatto è questo, è che siccome ci si identifica con il proprio corpo e poi successivamente o precedentemente ci si identifica con la propria mente, con i contenuti della propria mente, col dialogo che la propria mente porta avanti e con il dramma che questa mente racconta essere la nostra vita, a quel punto sentiamo di dover, l'umano sente di dover esternare, scusate, non esternare, di dirigere verso l'esterno la propria attenzione. Non trova un altro essere umano e allora là si sente solo, là nasce questa idea di solitudine, ma non prima, non prima. Quando poniamo un attimo di distanza fra noi, il nostro essere, il nostro sentire e il nostro corpo, quando poniamo un attimo di distanza fra noi, il nostro vero essere, il nostro vero sentire e la nostra mente, i suoi contenuti, il suo chiacchiericcio, a quel punto scopriamo di esserci identificati con qualcosa che non è il nostro corpo, con qualcosa che non è la nostra mente, con qualcosa che è il nostro vero essere, il nostro essere, e si sa l'essere è ciò che è e non può non essere. Te lo dicono sempre a scuola, poi uno non ci crede, perché l'assenza di una parte specifica viene confusa col non essere in assoluto. L'assenza di una qualche parte specifica può essere osservata come illusoria dal momento in cui ci si rende conto che la mancanza di un qualcosa non comporta la sua mancanza nell'immaginazione, ed è per questo che poi si finisce col dire che l'origine di ogni cosa è nell'immaginazione, perché quando cerchi qualcosa dell'immaginazione, guarda caso, c'è sempre, l'unica cosa che non c'è nell'immaginazione è l'inimmaginabile, per definizione. Poi ovviamente si potrebbero fare dei parallelismi di qualità fra l'immaginazione e l'essere, e si potrebbe scoprire che magari c'è una coincidenza fra le parti. Detto questo fra le due cose, detto questo magari è così, ho detto fra le parti, mi è uscito da dire questo, però chiaramente se l'essere è essere, poi l'essere nella sua interpretazione aristotelica più ampia è chiaramente il tutto, quindi dire che il tutto è una parte è un po' come dire, è un po' una contraddizione in termini sempre aristotelici, perché in realtà il tutto non è una parte, ma il tutto è in ogni parte, e ogni parte è in sé un tutto a sé stante, per dire che ogni microcosmo chiaramente è un riflesso del cosmo, ogni macrocosmo è una composizione di microcosmi, e poi si arriva così al tutto che è uno, e l'uno che è tutto. Però ecco, vedete, la filosofia ci aiuta un attimo a livello pragmatico per capire che fondamentalmente, ecco, l'infelicità, l'infelicità che è il male esistenziale nell'attimo presente, il male dell'attimo presente, l'infelicità è l'incapacità di essere nel qui e ora, in modo appagato, chiaramente, ma non solo, è proprio l'incapacità di essere nel qui e ora, punto, perché se sei nel qui e ora, chiaramente, probabilmente non ti manca nulla, essere nel qui e ora, si intende chiaramente a un livello pragmatico, essere in un esistenzialismo meditativo, perché chiaramente se sei nell'arena di Roma, ok, come lo era Spartaco, ok, ecco, quello non è esattamente essere nel qui e ora, però, come sanno bene gli atleti, tutti, tutti, all'interno di uno sforzo fisico, che può essere fatto anche in condizioni estreme dove si rischia la vita, ci sono tutt'oggi atleti che proprio le cercano certe cose, no? Ecco, come lo sanno loro? Si sa che c'è un attimo, c'è un qui e ora, anche in quelle condizioni di sforzo fisico e di rischio della vita estremo, di sport estremi, perché si dimostra, sono condizioni della vita in cui si vive nella propria pelle, sulla propria pelle, che il qui e ora meditativo esiste anche in queste condizioni estreme. La lucidità bellica, bellissime cose, e comunque, ecco, accontentarsi di chiunque pur di non restare soli, se dovessi spiegare a parole l'infelicità, lo farei così. Quanto dramma esistenziale c'è dietro questa frase? Ma, dall'altra parte, è Bukowski, e Bukowski, d'altra parte, è esistito per spiegarci, per spiegarci il dramma dell'esistenza e per scegliere l'altra via. Mi cari spettatori, mi cari psicocriminali, grazie per l'attenzione, grazie per la visione, se vi è piaciuto questo video vi chiedo gentilmente di lasciare un pollice in su, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornati all'uscita di ogni mio nuovo video, per il resto io come sempre vi auguro il meglio, e solo il meglio, e vi saluto fino al prossimo video. Ciao!